...di graduare gli ardori della sua cavalla Jan Norden, Traffic Jam, conduce nei confronti di Tornado Nover, all'esterno Easy PL, stappata in questo momento da Marcello Mazzarini, poi in corda Iadi LB, quindi Lolli Spey, in corda Ingenua F che ha all'esterno Gracia e chiude il plotoncino Inflated. Mezzo miglio, poco più alla fine di questa prima finale del premio Mangelic, incrementato il ritmo da parte della Battistrada Traffic Jam che è sempre insidiata da una generosissima Easy PL che ha all'interno Tornado Nover, poi Lolli Spey, quindi Ingenua F che serra sotto, poi ancora vediamo Gracia e Inflated. 400 metri conclusivi, ormai il ritmo è rovente anche se Jan Norden sembra avere ancora qualcosa da spendere in sediolo a Traffic Jam. Punzecchia con la frutta Marcello Mazzarini la sua Easy PL che ha in schiena ora Iadi LB, mentre il primo piano con il numero 4 è dedicato a Tornado Nover, ultima curva per Traffic Jam che si presenta in vantaggio, indirittura d'arrivo, ultimi 200 metri con Traffic Jam sollecitata da Jan Norden e in seguita da Tornado Nover, il traguardo è vicino, cerca di difendersi la femmina dall'attacco del masco e vince Traffic Jam nei confronti di Tornado Nover. Dunque non c'è bisogno della quarta prova con un secco 1-2 Traffic Jam.